Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video che mi è stato richiesto da alcuni utenti dove vi facevo vedere in Inazuma Eleven 3 Ogri all'attacco come ottenere la Fiammata Suprema. Andiamo in collegamento. Dobbiamo fare il download dal Nintendo Network, che vabbè io ho già fatto, ma vedo se me lo rifà. Anche se è inutile, per farvi vedere. Esco. Vabbè, si fa così. Verrà, sono scaricati nuovi dati, se non l'avete già fatto. Se no, probabilmente non vi verrà niente. Per ottenerla andiamo dove sto andando io. In centro. Al negozio di sport. Parliamo. E compra. Vedremo tutti questi oggetti. Scorriamo un po' in giù. Troveremo la Fiammata Suprema. costa 12.000 punti. Ed ecco qui che vi faccio vedere un po' com'è. Noi gliela faccio imparare, ovviamente, ma vi faccio vedere le statistiche. Fiammata Suprema. 58 pt di elemento fuoco. Ora andiamo a vedere nell'album tecniche. Noi gliela faccio imparare, ovviamente, ma vi faccio vedere un po' com'è. Noi gliela faccio imparare, ovviamente, ma vi faccio vedere un po' com'è. Ed ecco qua. Io finora gliela ho data Axel e Callous. E ne ho un'altra disponibile. Ecco, vi ho fatto vedere come mi avevate richiesto, come si ottiene su Inazuma Eleven 3. Questa guida, ovviamente, vale solo per la versione Ogre all'attacco. Allora, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.